la mia no Mario lascia l'accesa tu la mia è accesa vai parto riprendo salutarvi con affetto e torno all'introduzione sostanzialmente di un lavoro che ha intrecciato una convergenza se volete abbastanza imprevista di pensieri non tradizionali da una parte se volete il fiorire di questa generazione nuova che sta preoccupandosi del tempo che viene a mancargli cioè manca il tempo questo è il messaggio che io ricevo ogni volta che vado nelle scuole e dall'altra parte l'intuizione di una parte non maggioritaria ancora del mondo cattolico cattolico che un pochino spinta dall'enciclica di Francesco ha cominciato a ragionare con una capacità di connettere l'uomo con tutto il resto della natura e l'universo al punto di avere in certo qual modo perfino configurato ecco gli aspetti tremendi di questa ultima fase della pandemia cioè noi nella pandemia ci siamo accorti che il virus e l'uomo se posso dirla così in una maniera figurata vengono intambi come il mio naso gli occhiali di Duccio la testa pelata di Mancini e così via vengono tutti da un unico grumo dove tutta la materia e l'energia si erano concentrati 14 miliardi di anni fa e attraverso una continua e successiva cosmogenesi si sono creati i mondi il sistema solare le stelle fino a che 4 miliardi di anni fa attorno a questo pianeta che ha non tanto ma una pellicola di solo 60 chilometri l'atmosfera si sono create le condizioni perché nascesse la vita beh questo fatto qui è stato diciamo almeno in tutta la civiltà occidentale praticamente trascurato cioè che la vita fosse un fatto assolutamente singolare e che l'uomo non era il dominatore della natura che aveva intorno a meno di pagare qualche prezzo non l'hanno pensato nemmeno le religioni neanche la religione cristiana ad esempio per cui la prima cosa che ad esempio a me è venuta di pensare non essendo io un credente è che c'è stato un grande coraggio nel affrontare il problema del clima e della possibile sopravvivenza degli umani non partendo dall'immagine della cappella sistina cioè non è vero che viene creato un uomo che ha disposizione la terra ma questo uomo o convive con la terra primo messaggio oppure sparisce cioè niente di male dal punto di vista né energetico né dal punto di vista dell'evoluzione né dal punto di vista della biologia di tutte anche le scienze neurali di tutto il pensiero se volete post razionale post illuminista cioè di fatto la sopravvivenza è a cura di chi abita la terra quindi di tutte le specie ogni volta che ne facciamo scomparire qualcuna scompare anche una parte di noi e deve impressionare ad esempio che tutto questo esercizio di ripensamento anche delle nostre relazioni umane sociali politiche avviene avviene in anticipo rispetto a questa tremenda vicenda della pandemia cioè noi abbiamo provato a scrivere questo libro che io trovo interessante si chiama niente di questo mondo ci sembra ci risulta indifferente è un tentativo per 13 punti di affrontare le emergenze ma di collegare una all'altra cioè le emergenze non vengono una per volta è come la cosa degli orazzi e dei curiazzi insomma l'idea di abbatterne uno per volta perché ci spostiamo più velocemente qui non regge cioè l'emergenza climatica l'emergenza nucleare dall'altra parte perché guardate che siamo non tanto lontani dal fatto che possa esplodere un conflitto assolutamente non solo inauspicabile ma impensabile oggi e l'altra grande emergenza che è quella che riguarda la giustizia sociale di fronte a cui tra l'altro la pandemia farà precipitare in modo particolare temo il mondo del lavoro cioè la vedo brutta la vedo brutta vedo la rabbia di quelli che avevano e che vogliono riavere quello che avevano ma quelli che non avevano niente potrebbero non avere voce allora il ritorno a una visione per cui tutto quanto ci circonda è connesso e ha un'unica radice dice che abbiamo una storia comune e che al di là di tutte le pattuglie che possiamo avere il rischio è che l'uomo genere umano possa impunemente se volete decidere che questa storia non continua ma non non continua per l'universo che continua a espandersi a avere 15 miliardi di anni luce di spazio davanti a sé no semplicemente verrebbe meno una finestra energetica dentro cui noi viviamo e che fa sorridere quando ne parliamo io quando vado vi sto raccontando un po' il libro se volete quando vado nelle scuole i ragazzi che vanno nelle piazze e che hanno sentito dentro le loro relazioni e la loro sensibilità che il tempo che hanno davanti è davvero precario però non hanno idea perché la scuola non glielo insegna affatto di che cosa vuol dire la precarietà ad esempio gli si dice guardate che rischiamo di superare un grado e mezzo di temperatura già entro il 2030 e tutti guardano stupiti dicono beh ma in fondo cos'è un grado e mezzo ma provate a pensare un grado e mezzo in un lago gelato si scioglie come fa l'Artico o l'Antartide un grado e mezzo di temperatura in più per me e vi telefonavo e vi dicevo che stavo a letto cioè noi abbiamo imparato a guardare la crescita la produzione il consumo parlo di cose a cui credo perché sono cose materiali dentro cui noi abbiamo giocato addirittura il conflitto beh ma ci siamo abituati a descriverle come se il terzo ottore la sopravvivenza e la natura non esistesse cioè oggi ci accorgiamo che se posso usare una parola di solito detta con un certo ritegno siamo accorti che il capitale ha un bisogno indispensabile contemporaneamente insisto contemporaneamente di sfruttare il lavoro e di depredare la natura cioè l'una e l'altra cosa non procedono separati dall'accumulo e dalla voracità di questo sistema e quindi come dire la prima indicazione anche di questo racconto un pochino a volte pieno di aneddoti anche è di collocare politicamente natura e lavoro dalla stessa parte della barricata cosa che tra l'altro se voi pensate bene ha degli effetti formidabili non solo quando si parla di natura e di lavoro ma ad esempio per dirne una quando si parla di emigrazione ma non pensiamo che in effetti i vari Trump Orban o Salvini non pensino che tutto sommato qualche problema c'è rispetto al clima ma hanno una soluzione che vivono il meno possibile e il più confinato possibile e il più difeso dai loro interessi il minor numero di persone perché no cioè non c'è per Trump creare l'esercito spaziale vuol dire impegnare le risorse che vengono oggi di nuovo succhiate sussunte dal lavoro e dalla natura per andare via dall'atmosfera per creare dei mondi nuovi oppure dei mondi ben protetti dove vivono alcuni e dove francamente non è un grande peso né etico né di sofferenza il fatto che i barconi di neri muoiono nel mare per uno del mio paese che me l'ha detto proprio così ha detto guarda Mario a me va anche bene che questi qui non arrivino da questa parte altrimenti noi capite la lettura è stata questa si può sopravvivere con una grande ingiustizia sociale composta questa che va molto al di là di una associazione è una proposta rivolta se volete al mondo della sinistra chiamiamolo così cioè collegare le emergenze sotto un unico punto di vista cioè la giustizia sociale è la lente attraverso cui guardiamo il mondo e non lo facciamo abbastanza tenete conto che la sconfitta della sinistra è anche dovuta al fatto che la parte del mondo che non ha voce non se ne occupa direttamente anzi entra nel gioco per contendersi la parte che prevale nel mondo dentro questo c'è ad esempio una lezione sul fatto che i capitali si muovono e la gente fa più fatica a muoversi a meno che ne sia costretta perché nei territori da cui proveniva non si vive più allora io vi racconto per finire questa breve cosa io sono bergamasco e sono nato proprio in quei posti dove hanno fatto andare a fondo gli anziani diciamo che la metà di quelli lì li conosco purtroppo mi scrivevano no non tutti per fortuna li conosco ma vuol dire gente nostra gente dello SPI faccio per dire che non ha detto una parola su questa cosa che venivano presi e trasportati tutti in un unico grande stanzone e i parenti a chiedere ma che cos'è di loro provate a pensare noi abbiamo imparato nella società industriale non tener conto della morte cioè nei miei paesi si andava ancora tutti a funerali cioè io ho in mente lo dico con un po' di passione e così al funerale di mia moglie c'era tutto il paese insomma no il mondo a cui ci siamo abituati l'America ad esempio se pensate o l'Inghilterra ormai fa un del funerale qualcosa che va rimosso cioè la morte non c'è la morte è questione che si gioca tra quello che scompare che non vede più nessuno e si augura soltanto di andarsene il più velocemente possibile è il medico che decide quando e come quello se ne deve andare è un fatto nuovo io l'ho vissuto ad esempio dentro questa un amico di tutti voi Ravasio ha avuto quattro cugini morti lì perché a Bergamo si diceva agli operai ma come io non ve lo dico in dialetto ve lo dico in italiano ma in dialetto fa ancora più impressione ma un bergamasco anche se ha la febbre va a lavorare solo che andava a lavorare non tornava più allora dentro questa abbiamo imparato qualcosa io penso di sì ad esempio lo dicevo l'altro giorno a Gigi con cui parlavo se io tornassi per carità non mi viene neanche ma lo dico così al sindacato immediatamente convocherei una grande assemblea in tutti i territori per dirci che cos'è stato due mesi di sciopero obbligato dico sciopero nel senso non si andava a lavoro non si usciva di casa chi l'ha visto più il delegato chi l'ha visto più il io mi ricordo che ho dovuto andare dal balcone di casa mia a dire a quelli dell'aereo macchi di non entrare perché era pericoloso in quei giorni entrare e quindi come dire che cosa abbiamo imparato e qui finisco beh sicuramente abbiamo imparato che non può ripartire tutto come prima e che ad esempio questo colpo e guardate che su questo io non ho paura a dire anche una cosa che magari per alcuni è moderata ma questo colpo formidabile di poter ricorrere alle risorse europee lasciate per poi noi lotteremo perché le condizioni non vengono ma in un clima che non era mai stato ipotizzato prima e usarle non per ritornare alla ridistribuzione che c'era prima della pandemia ma per riconvertire decarbonizzare modificare i rapporti di vicinato attrezzare alla cura ma guardate che mentre noi stiamo parlando alla televisione vai in onda un programma dove quello di reporter spiega che il presidente della Lombardia intanto che c'era il massimo di contagio ordinava i camici e le mascherine all'azienda dove suo cognato è l'amministratore delegato una fabbrica che conoscono tutti perché dicono le ordinava alla fabbrica Dama il marchio della Dama è Polen Shark capite? cioè siamo di fronte a fatti non so al fatto che nelle case di cura nelle RSA si poteva accatastare ma io ho avuto compagni che sono morti in quel modo lì dico compagni perché sono quelli che hanno suscitato di più se volete anche per me un senso di frustrazione e di rabbia ma non so se questo sarebbe potuto succedere ad esempio negli anni 70 avremmo avuto risorse per cercare di ribaltare una situazione che con la storia del movimento operaio e della sinistra italiana non poteva essere giocata come è stata giocata in Inghilterra ad esempio o altrove noi allora abbiamo cercato e vi chiedo scusa ma cercando di capire che occorrerebbe creare l'abbiamo definita così una pedagogia degli oppressi cioè il ritorno a scuola ma come non può essere una cosa straordinaria come era stato ad esempio l'idea delle 150 ore cioè ma perché lavorare 42 ore come si lavora al mio paese in tutte le fabbrichette a contatto altro che di mezzo metro avvitano assieme il dallo e il bullone allora perché non ridurre quel tempo e usare una parte per riconsegnare al territorio alla democrazia alla cura allo studio allo studio non siamo tanti che possono utilizzare questo sistema e questo modo di comunicare allora forse abbiamo anche trovato un'occasione nuova a mio giudizio la sinistra potrebbe ripartire non da una ricetta ma da ragionare assieme della novità che abbiamo davanti e del poco tempo con cui la possiamo affrontare scusate non da un'occasione non da un'occasione